Questo dipinto leonardesco rappresenta San Girolamo, un'opera eseguita da un artista che ha lavorato nella stretta cerchia di Leonardo in Lombardia nel XVI secolo. Il dipinto proviene da una collazione privata milanese in cui è entrato verosimilmente all'inizio del XIX secolo. Quando lo abbiamo trovato era completamente mascherato da una vernice ingiallita che noi abbiamo rimosso. Abbiamo ridonato al quadro la sua straordinaria luminosità. Il dipinto inizialmente evidenziava sulla superficie numerosi interventi, eseguiti ovviamente per celare delle lacune, ma che debordavano sulla materia originale per andare ad accordarla dal punto di vista cromatico. Quello che noi abbiamo dovuto affrontare è stato un consolidamento del colore, ma soprattutto un riordino dal punto di vista estetico. Una rimozione della vecchia vernice fotossidata, per cui molto ingiallita e scurita e carica di sporco atmosferico, e al contempo una rimozione dei restauri pittorici che risultavano come delle macchie sulla superficie dipinta. Fino a quando non è arrivato nelle nostre mani aveva questa attribuzione a Cesare da Sesto. Noi abbiamo avuto qualche perplessità su questa attribuzione, ci siamo rivolti allo storico di riferimento, al professor Morandotti. Il carattere ancora anonimo del dipinto non inficcia il suo grande valore. È una testimonianza molto importante dell'ultima stagione leonardesca a Milano. Questo dipinto si lega alle invenzioni di un pittore che si chiama Cesare da Sesto. Questo San Gerolamo è una specie di iperbole rispetto a un'invenzione che Cesare da Sesto licenzia proprio qui a Milano. È il Battesimo di Cristo, oggi nella collezione Gallarati Scotti, un quadro sformidabile proprio per questa cornice paesaggistica che questo pittore sembra conoscere, insomma, perché al di là dell'elencazione delle piante, quello che è molto simile fra queste due opere, è la straordinaria restituzione di questo paesaggio con, diciamo, dei sassolini percorsi dalle acque, con delle ranocchie che sembrano, diciamo, affacciarsi e tuffarsi dalle rocce, una lumaca che si riconosce ai piedi dell'albero sulla destra. Insomma, c'è veramente una specie di ossessione da botanico, c'è un'osservazione come dire quasi ossessiva degli elementi naturali che avvicinano particolarmente la cornice, paesaggistica del quadro di Cesare da Sesto Gallarati Scotti e questo dipinto. Questo sa significare che il pittore era anche un appassionato botanico, data la precisione con cui sono descritte ogni singola foglia, ogni singolo fiore e anche i piccoli animaletti che popolano il dipinto. E poi straordinariamente eccezionale la figura del San Gerolamo con questo movimento, questi incarnati perlacei, luminescenti. La cosa che a me personalmente piace di più è questo volto del leone che è quasi umanizzato, è fenomenale.